Una sempre maggior sinergia operativa tra forze di polizia è l'obiettivo del Ministero dell'Interno, ma a Pesaro è anche un fatto familiare. La nuova dirigente della squadra volanti, il vicequestore Emanuela Canestrini, è infatti la moglie del comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Filoni. Romana, già responsabile presso il quirinale della scorta di polizia ai capi di Stato, fin dalla presidenza Ciampi Canestrini si è appena insediata nel suo nuovo ruolo. Come prende questa nuova sfida, questa nuova avventura? Io credo che è sempre bello cambiare, bisogna avere l'interesse e la voglia di farlo sempre e di rimettersi in gioco. Quindi per me sarà fondamentale farlo nel miglior modo possibile, seguendo anche quelle che sono le indicazioni del signor questore, del signor prefetto e quindi a disposizione della collettività.